Sì, buongiorno, sono Fabio Fiorentini della società Inno Videoconferenza e ci occupiamo prettamente di videoconferenze professionali, siamo partner sia Policom che Sysco e leader di mercato per quanto concentra la videoconferenza e siamo qua oggi a questo evento appunto perché la richiesta del mercato richiede un'evoluzione anche su questa fascia di prodotti che sono stati presentati oggi da altri giorni, dal Videowall, Digital Sunset, queste qua sono le richieste che stanno prendendo sempre più piede oggi da parte dei nostri clienti. Il settore che ce la richiede di più sono il settore bancario, la grande distribuzione e l'editoria.